Smov l'ho ordinato direttamente dal loro sito è arrivato in pochissimo tempo realmente è un questo che ho voluto fare per dire il fatto che lo stabilizzatore che ho adesso della DJI è collegato al cellulare ma non lascia libertà al cellulare di potersi muovere invece questo c'ha il face streghi cioè ti segue il viso segue la persona segue l'oggetto che vuoi intendere seguire e oltretutto fa sì che praticamente si possa mettere il cellulare con un estensore che risulta un attimino più distante vediamo un attimino come è il pacco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti